Salve gente, sono Mandelcube e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di questo let's play. L'argomento di oggi è una bella farm di Blaze con spawner. Purtroppo i miei due spawner sono troppo lontani, quindi la mia farm sarà a spawner singolo, che comunque dovrebbe produrre un bel po'. Cominciamo immediatamente. Ho ricoperto di terra i due strati superiori dello spawner, 9x9. Questo per fare in modo, uno, che non spawni no Blaze, e due, ho usato la terra perché la spacco con la palla. In questo modo, anche se per caso il mouse mi dovesse andare sopra lo spawner di Blaze, non lo distruggerei in un quarto di decimi di seconda. Ok, quindi iniziamo immediatamente. Innanzitutto contiamo 4 blocchi sotto lo spawner, 1, 2, 3 e 4. Questo è fin dove i Blaze vengono contati. A questo punto contiamo altri 2 blocchi. Oh, questo piccone è troppo efficiente. 1, 2, 3, 4, ok. 4. Qua è dove i nostri Blaze possono stare, ma il particolare tipo che utilizzerò li può far stare a volte in un posto più alto di uno. Quindi, ancora un blocco. Da qui creiamo una nostra piattaforma in ossidiana, 9x9, lasciando però una striscia bucata in mezzo. Ora vi spiego cosa intendo. Qua metto ossidiana, come faccio a questo punto il bordo, 1, 2, sono già arrivato di qua, 1, 2, 3 e 4. Di qua salto la fila centrale perché ho deciso di saltare questa, voi decidete pure il lato che volete e fate comunque 4. Quindi fate due piattaforme messe in questa direzione. Ok, di qua devo saltare solo 3, 1, 2 e 3. Dato che per il momento l'unica cosa che devo fare è spaccare qua intorno, direi che ci vediamo quando l'ho fatto. A dopo! Sarà un episodio lungo altrimenti. Ok, come vedete, due belle piattaforme 4x9. Si estendono, il loro centro, ovvero il 9x9 tranne la striscia centrale, è esattamente sotto lo spawner dei blaze. 1, 2, 3, 4 blocchi che è dove lo spawner contro i blaze. Due blocchi perché i blaze sono alti due e abbiamo lasciato ancora uno perché il modello che stiamo per utilizzare rischia di farli rimanere più alti di uno per un po' di tempo. E noi quindi vogliamo evitare ciò, no, vogliamo evitare che vengano contatti in modo che il numero sia infinito. Credo che un blaze mi abbia appena colpito. Torniamo un attimo sopra. Purtroppo le fortezze spawnano blaze, quindi il semplice fatto di aver circondato lo spawner non ci salva dai nostri accendini volanti. Dove devo andare? Ok. Dov'è il tenero blaze che mi vuole tanto bene? Sparito dalla faccia della terra. Continuiamo il nostro argomento. Abbiamo quindi deciso di saltare ancora un blocco. La fila centrale che manca la facciamo un blocco più in basso degli altri, tranne il blocco centrale. Il motivo dell'ossidiana, cacchio ho passato un blocco che non avrei dovuto. Il motivo dell'ossidiana è che vogliamo fare in modo che i nostri slimebok non trascinino i blocchi intorno. Avete capito bene, la nostra farm sarà a base di slimebok. Questo perché non sono riuscito a trovare un modello con i carrelli, no scusate, i modelli con i carrelli per il momento non funzionano. Quindi ho deciso di utilizzarne uno a pistoni, ma anche i pistoni mi davano non pochi problemi. Ho visto però che gli slimebok funzionano egregiamente. Eccoti lì trovato. Funzionano egregiamente gli slimebok anche in questi snafflot. Sono abbastanza circondato da Blaze. Chi è che mi spara e dove? Datemi un attimo. Allora, innanzitutto proviamo a fare questo. Non vorrei che mi buttassero di sotto. Sopravvivo perché è una bella corazza, però mi piacerebbe evitare di morire. Due blocchi ancora dietro e l'ultimo può anche essere un blocco normale. Questo perché gli slimebok non ci saranno mai a contatto. Ok. Mettiamo a questo punto i nostri sticky piston. E mi sa che ho sbagliato per la fretta. Sì, decisamente. Uno. E il blocco normale andava qua. Come vedete sono messi in diagonale. Questo perché i quadruple pistol extender sono molto complicati prima di questo snapshot. No, scusate, prima degli slimebok. Ma una volta arrivati gli slimebok, non so se vi avete notato, ma tutti i video tutorial a proposito dei, come si chiama, dei piston extender sono spariti. Il motivo è che nessuno ha ritenuto più fosse il caso di farli, dato che sono diventati esageratamente semplici. Ok. Per quanto riguarda invece questo lato, dobbiamo lasciare un blocco. Un attimo che devo contare in modo da non sbagliare. Perché ho i blocchi abbastanza contati, soprattutto gli slimebok. Questi devo ancora capire a chi cavolo stanno sparando. Io non sono lì. Ok. Blocco di qua. Qui avremo degli slimebok. Ancora uno di qua. E ancora uno di qua. Qui mettiamo il nostro primo, ripite, ripite, sticky piston. Andiamo un attimo indietro. Mi raccomando, questi sticky piston, tutti su blocchi che non vengono trascinati dagli slime. Io sto usando ossidiana perché ha il vantaggio di non essere una tile entity... No, una block entities. Sono ancora abituato al nome vecchio, devo riuscire a perdere questa abitudine. Le block entities sono tutti quei blocchi che hanno MBT tag o un inventario o qualcosa del genere. Tutti questi blocchi non possono essere spinti da, come si chiama... Dai pistoni e quindi neanche dagli sticky piston. Voglio però... Gli unici due non block entities che non vengono spinti, che io sappia, sono... L'ossidiana e la bedrock. Dada che non posso ancora spostare la bedrock, credo che mi accontenterò dell'ossidiana. Ok. Di qua facciamo la stessa cosa. Ossidiana nel primo punto. Questi blaze rompono le scatole da morire. Pensavo che il tutorial sarebbe stato un po' più semplice, ma in fondo è un episodio di un let's play, non un tutorial. Quindi per il momento ci accontentiamo. Anche di qua andiamo da questo lato. Sempre in diagonale. Mi sa che ho sbagliato. Eh, infatti ho sbagliato. Ok. Il modo in cui stiamo contendo. Lasciatemi un attimo fare. Ehm... Allora. Qui avremo lo slime block. Qui avremo una nostra fila e lì deve essere esteso. Quindi ancora un blocco di qua. Ehm... Slime block. Fila di slime block. Pistone esteso. Punta del pistone. Che quindi va qua. Da qui ci muoviamo in diagonale. E ne piazziamo quattro. Come ho detto è un quadruple pistol extender. Il motivo... Piston extender. Oh, difetti di pronuncia abominevoli. Ok. Il motivo per cui lo creiamo è che la nostra piattaforma è 9x9. Quindi utilizzandone due da entrambe le parti possiamo spingere tutti i mob al centro. Ok. No, questo è vero. Questo qua può essere un blocco normale. Quindi utilizziamo un blocco normale. Giusto per fare un pochettino di differenza. Mettiamo i nostri quattro sticky piston sopra. Ok. E ok. A questo punto dobbiamo alimentarli. Andiamo un pochettino più in basso. Spacchiamo questi blocchi. Solo per questi abbiamo piazzato dei blocchi sotto agli sticky piston di quelli laterali. D'ora in poi chiamerò questi qua laterali e questo laterale, questo laterale, questo frontale e quello frontale. Giusto per comprenderci meglio. Dobbiamo a questo punto rimuovere i blocchi sotto a quelli frontali. Ok. E mettiamo sotto ciascuno di essi un blocco normale distanziato di uno con una torcia sopra. Ma al momento non ho le torce, quindi lasciatemi un attimo di tempo per andarle a prendere. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Oh, sti blaze... Datemi due secondi vado ad eliminare i blaze. A dopo. Peggio degli scarafaggi, ce n'erano 56 trilioni. Ok, come ho detto, sotto ogni sticky piston frontale mettiamo una torcia di reston separata da un blocco. Stessa cosa la facciamo per l'altro lato. Qua sarà un pochettino più complicato per me. Questo lo metto. Usiamo pure i blocchi da costruzione. È un po' un casino adesso per me. Datemi un attimo. Provo a scendere da questa parte. Ok. Di qua ora dovrebbe andare. Non so neanche bene se questi blocchi poi li dovrò spaccare o no, ma amen. Ok. Vediamoci. No. Ok. E ancora un pochettino di qua. Va a sapere perché erano spawnati 280 mila trilioni di... Come si chiama? Di blaze. La quantità era completamente abominevole e non l'ho assolutamente capita. Ok. Mettiamo. Questo è per me più che altro, per camminare. Ok. Mi spiace che tutti questi blocchi andranno persi. Perché comunque non sono in grado di recuperare. Siamo sopra un lago di lava. Avrei dovuto probabilmente fare tipo una piattaforma sotto, ma non avevo voglia o il tempo. Ok. E mettiamo torcia, il nostro pistone. Torcia ad alimentare il pistone. Torcia ad alimentare il pistone. E torcia ad alimentare il nostro pistone. Ok. Per quanto riguarda invece questi, sono un blocco più in alto. Quindi lasciamo e inoltre, scusate, e inoltre hanno anche il blocco d'ossidiana in mezzo alle scatole. Per questa ragione, li lasciamo. E mettiamo invece un blocco... Mettiamo la torcia allo stesso livello di questi. Però sotto. Ok. È giusto così. Andiamo. Ti ho misurato bene. Facciamo la stessa cosa per tutti gli altri sette. Quattro da questa parte e quattro dall'altra. Ok. Blocco. Oh, pure i gas ci si mettono. Se ve la sentite un po' di barrare voi, io purtroppo non me la sento, quindi non lo faccio. Mettete in cre... Mettete in pisul per un po'. Almeno vi levate dalle balle tutti i mostri che rompono le scatole. Ok. Andiamo anche dall'altra parte. C'è un modo decente di passare? Per il momento no. Quindi mi tocca fare il giro. Qui abbiamo il nostro sticky piston. E qua dovrò rimuovere tutto. Niente da fare. Anche perché altrimenti mi spawnano i mob sopra. Quindi non è molto bello e non è molto piacevole. Ok. Ci richiamo fino all'altra parte dove c'è il buco. Di qua dovrebbe essere. Ok. Altri blazer là in fondo che probabilmente vogliono solo salutarci amichevolmente. Ok. Siamo quasi arrivati. Ah sì, qua erano i blocchi che avevo sbagliato. Questi non servono a un fico secco. Mettiamo quindi un blocco sotto il nostro sticky piston. Un attimo che quel blazer là in fondo mi ha visto. Ok. Ok. Muori. Anche tu. Ok. Andato. Problema risolto. Diamo questo punto in diagonale. Ok. Sotto i nostri sticky piston. Dovrebbero essere quattro. Anche se non li vediamo perché c'è l'osidiana. È abbastanza semplice metterli. Ok. Sticky piston. Tolcio sotto. E anche per questo. Ora guardiamo un attimo come verranno alimentati questi sticky piston. Chi è? Dove? Perché rompe le scatole? Vabbè. Io per il momento me ne frego altamente. Ok. Innanzitutto dobbiamo mettere un repeater da questa parte. Credo di averli portati. Sì. Eccoli qua. Per il momento direi che fa così. Non mi piace molto sprecare tutti questi blocchi. Ma... Un repeater in questa direzione. Un repeater in questa. Di qua mettiamo invece un repeater da questa parte. E un repeater di qua. Posso saltare? No. A quanto pare non posso saltare. Quindi mi tocca mettere un blocco qua. Ok. Ah no. Scusate. Questo blocco non serviva neanche. Ok. Perfetto. Problema ridotto. A questo punto andiamo dall'altro lato. E continuiamo più o meno con una struttura molto simile. Uh. Questo blocco non ci andava. Ok. E ok. Di qua abbiamo il repeater che entra. Quindi ne mettiamo uno che esce. Così. Di qua ne mettiamo invece uno che entra. E di qua un altro che esce. Infine. Di qua uno che entra. Perfetto. Oh mio dio. Ok. A questo punto davanti a ogni repeater che esce mettiamo un blocco. Un pezzetto di reston. Me la sono portata per fortuna. E un blocco davanti. Che io non metto perché sennò sarei intrappolato. Qua un blocco. Pezzetto di reston. E un blocco davanti. Tutti i repeater sono a uno. Il motivo è che ho visto che il delay perfetto è due. Ma non sono riuscito a... Se non mettevo due repeater si incastravano. Quindi il delay perfetto lo abbiamo così. Facciamo a questo punto la stessa cosa dall'altra parte. Blocco. Ho finito i blocchi. Ho finito i blocchi. E mettiamo qua. Abbiamo a questo punto questa struttura che va a zig zag. Entra di qua. Parte da un lato. Fa tutto il giro da una parte. E facciamo la stessa cosa. Dobbiamo mettere a questo punto Un repeater che entri di qua. Da questo lato. Un repeater che entri di qua. Un attimo solo. No, sono incastrato di nuovo qua sotto. Questo blocco per il momento non serve. Quindi posso spaccarlo. Ok. E per quanto riguarda questa parte lo mettiamo di qua. Mi raccomando. Quando avete ripito che entra. Che entra. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Per tutti quanti. Ripeto la stessa cosa che ho fatto. Due secondi fa. Tre volte. E intanto elimino i blaze. Quindi ci vediamo fra poco. A dopo. Ok. Sistemati da tutte e quattro le parti. A questo punto ci mettiamo qui. Siamo da in mezzo ai due laterali. Come vedete c'è l'altro repeater di quello laterale lì. Mettiamo due pezzetti di reston qui. Un blocco in mezzo. E una torcia da questo lato. Che ha appena fatto ritrarre tutti i pistoni. Scendiamo un attimo. Questo è già un pochettino più complicato. Ok. Ci dobbiamo mettere... Qua abbiamo il blocco con la torcia. Dobbiamo metterci lì dietro. Ok. Scusa blocco che ho appena piazzato. Ok. E qua mettiamo una torcia. Qua rimettiamo il blocco che ho appena rotto. Ok. E ci siamo. A questo punto mettiamo di qua un blocco con un'altra torcia. In questo modo sono tutti alimentati a dovere. Scendiamo ancora e piazziamo dei blocchi perché dobbiamo alimentare questi. Oh mio dio. Pausa gas. Ok. La pausa gas è terminata. A questo punto abbiamo il nostro blocco con la torcia. Contiamo quattro blocchi indietro. Uno. Due. Non ci arrivo. Tre. E quattro. E quattro blocchi di là. Uno. Due. Tre. E quattro. Il quinto lo saltiamo. E ne contiamo due in questa direzione. Qua c'è il quinto. Ho detto che lo saltiamo. Quindi via. Il quinto lo mettiamo di qua. A questo punto dovremmo quasi essere in prossimità dell'altro centrale che abbiamo. E infatti eccolo qua. Ok. Anche questo lo alimentiamo con una torcia. Mettiamo a questo punto un'altra torcia per alimentarlo. Come lo metto decentemente? Non c'è modo di metterla decentemente. Quindi la torcia la metteremo così. Anche qui un altro blocco con la torcia. E qui invece mettiamo resto. Da tutte le parti. Controllo solo di aver piazzato giusto perché non sono del tutto sicuro. E non vorrei sbagliare dato che comunque questo è un tutorial che è abbastanza complicato. Questa farm è in pratica una modifica di quella di The Nymphs che vi metto in descrizione. E metterò anche un'altra piccola cosa di Maisuma Games. Per questo vi leggo anche la sua farm in descrizione. Per il momento lasciatemi controllare solo un attimo. E infatti ho fatto già un piccolo errore. Allora. Questo non lo alimentiamo con una torcia. Differentemente come ho detto. Questo lo alimentiamo con un pezzetto di reston. Così. E qua mettiamo la torcia. Il motivo è che tutto diventa un pochettino... È un pochettino incasinato perché ho tentato di mettere tanta roba in questo punto. Quindi è venuto un pochettino diverso da come uno lo farebbe in maniera normale. Ok. E questo lo mettiamo qua. Perfetto. Abbiamo di nuovo i Blaze che girano intorno. A questo punto mettiamo il nostro sistema per chiudere tutto. Ok. Un attimo solo. Mettiamo qua, se non sbaglio, una leva. Che però non ho. La devo prendere. Da questa parte. Avremo qua in mezzo i Blaze comodi comodi. Mettiamo una torcia qua sul retro. E costruiamo il classico 8 o'clock. Però mi servono i comparatori. Hopper. Oh, ho dimenticato un paio di hopper. Datemi un paio di minuti solo per prenderli. Ok. Preso ciò che mancava. Ho visto di aver fatto un piccolo errore. E la leva va messa in un blocco allo stesso livello della cassa. Eccolo qua. A questo punto mettiamo la torcia. Questa volta al punto giusto. Un blocco dietro. Cominciamo già a fare la fila dove piazzeremo in... Uh, stavo per cadere. I nostri blocchi. E qua dietro uno dove metteremo un altro pezzetto di reston. Ok. Qua abbiamo il primo pezzetto di reston. E qua il secondo. Dato che la leva per il momento è messa così, il nostro letto clock sarà spento. Comparatori. Dove li ho messi? Eccoli qua. Non fatemi scherzi, lo so che ce li ho. Un comparatore. Due comparatori. Hopper puntati. Ciascuno verso l'alto. Mi tocca metterli in questa maniera. Spero di riuscire a farlo. Ok. Ho modo di torno. È perfetto. Preso. E anche questo qua. Sticky Biston. Ok. Uno qui. E uno qui. E il nostro letto clock è pressoché pronto. Bisogna ancora metterci un blocco di reston qua in mezzo. E 23 blocchi, 23 pezzetti, scusate, oggetti qua dentro. Un attimo che li prendo. 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Ora li ho contati e sono giusti. Anche perché abbiamo il nostro timer. Abbiamo il nostro, come si chiama, crusher. Che adesso mettiamo. Che è calcolato su quello. Qua avremo i nostri blaze messi qua. Quindi adesso prendo l'altro hopper. Il motivo per cui ne avevo già uno prima ma non ho deciso di usarlo è che l'avevo calcolato così ma avevo sbagliato. Ok. Ce ne volevano di più. E mettiamo uno sticky piston qua. Sopra la cesta mettiamo due scale. Solo per bellezza ne mettiamo una qua che spacco subito. Ok. Non devo dare fuoco alla cesta. Non ho alcuna ragione di dare fuoco alla cesta. Ok. E uno messo così. In questo modo abbiamo il nostro muro dritto con la scala davanti. Il blocco arriva. Qua abbiamo il nostro sticky piston. Che punta da questa parte. E i nostri blaze cadranno tutti qua. Verranno spinti dai pistoni. E verranno mandati in questo punto. A questo punto il pistone li spaccherà per il periodo giusto. Che adesso creiamo. Ok. Qua abbiamo il blocco. No. Ah no. Ah giusto. L'avevo alimentato così. Un blocco dietro il pistone. Un blocco di qua. E un pezzetto di reston sopra. Adesso direi che possiamo mettere i nostri slime block. E vi faccio anche vedere come il tutto funziona. Ok. Devo solo trovare il modo di andare su. Il leto clock è già partito. Dovrebbe essere andato. Eccolo qua che va. E lo piazziamo al suo posto. Allora mettiamo questo punto. Per i due centrali mettiamo una fila di quattro slime block. No. Di sì. Di quattro slime block. Tre di qua. E aspettate. Un blocco qua al centro. Uno. Due. Tre. E quattro. In questo modo. Adesso ti per favore ritraiti. Eccoli. Come vedete ha ritratto tutto perfettamente. Senza il ben che minimo problema. E ogni volta che si allunga invece questo pezzo arriva fino qua al centro e spinge. Facciamo la stessa cosa per gli altri due. Slime block. Slime block. Ok. Qua per il momento è bloccato. Qua devo fare in modo che non ci siano blocchi in mezzo alle valle. Sennò gli slime block si appiccicano e fanno casini. Ok. Dovrebbe andare per il momento. Attivati. Giusto per far vedere anche a me che stai funzionando. Non dovrebbero essere... Oh no no. I problemi ci sono. Eh. Non ho considerato questo. Tutto in mezzo alle scadole. Ok. Questo perché non sta scattando? Oh perché qua ho dimenticato di mettere dei blocchi. Ma quanto sono scemo. Ok. Pezzo di resto. Eh. Come va messa la roba qua? Repeater. No qua non ci va il repeater. Oh. Un attimo che non mi tornano i conti. Allora qua ci vuole un blocco. Qua ci vuole un blocco. Qua ci vuole la reston. Ok. Ho dimenticato qualcosa anche di qua. Non credo. Infatti qua è tutto corretto. Datemi un attimo che controllo perché non funziona. Vi chiedo scusa ma mi sono accorto che il video è durato un tantino troppo. Piuttosto che darvi un'ora di video in cui spacco una fortezza. Ho deciso di spaccare il video in due parti in modo da renderlo più guardabile. Vi assicuro che il piccolo problema che ho riscontrato adesso è nulla di grave e potete vedere alla mia sinistra perché. Concluderei qui quindi. Se il video vi è piaciuto per favore commentate. Se volete mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie mille per aver guardato e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.